In quel momento il male era dentro di me, io ero il male. Tutti abbiamo i nostri draghi, tutti possiamo essere quel mostro che sono stato io. L'amore è amore per se stessi e un violento non ama se stesso. Crepe in una battuta mi dice rispetto a quello che abbiamo sentito quello che la colpisce maggiormente. Cosa mi colpisce? Mi colpisce il ricordo di 50 anni fa quando mia madre, senza nemmeno dirmelo, mise in piedi a Padova un centro contro la violenza sulle donne. Forse non è cambiato niente. Forse non è cambiato. Forse non è cambiato anche la sinistra. Amore il cor Pig next.